Il viaggio di Sguardi sul Reale Festival si chiude il 12 e il 13 maggio con un doppio appuntamento e prende il titolo dal concetto che ha ispirato la costruzione di tutto il programma, Radici Altrove. Il 12 maggio ci sarà una cena a partire dalle 19 al Circolo Arci di Loro Ciuffenna preparata da Associazione Donne Insieme, un'associazione che si occupa dell'inserimento lavorativo di donne migranti che preparerà una cena che unisce odori e sapori del Mediterraneo. Dopo la cena la proiezione del film Pescatori di Corpi di Michele Pennetta e saranno con noi il regista e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa responsabile dell'accoglienza e delle prime visite ai migranti che sbarcano sull'isola. La serata è in collaborazione con il progetto Sprar di Arezzo, con Arci Valdarno e con Unicop Sezione Soci di Montevarchi. Il 13 maggio invece ci immergeremo nelle radici del nostro territorio con una passeggiata guidata dal cedo ambiente e territorio nelle balze di Persignano. Esploreremo una grotta rifugio scavata durante la Seconda Guerra Mondiale e a rendere più suggestiva questa visita ci sarà un'installazione sonora proprio all'interno della grotta e canti e racconti legati alle nostre tradizioni e alle nostre origini a cura di Lorenzo Michelini. La giornata inizierà alle 16, il ritrovo è davanti alla chiesa di Persignano e dopo la passeggiata un aperitivo di arrivederci al festival al tramonto. Tutte le informazioni e il programma dettagliato lo trovate sul nostro sito internet maccoma.it e sulla pagina Facebook Sguardi sul Reale.